Lunedì sera vi attendiamo a casa Archilei per un appuntamento importante di impronti femminili di questa stessa edizione. È un appuntamento di restituzione di un percorso articolato condotto da Alessandra Palazzo al Paricentro durante l'inverno con il gruppo di letture pari letture che ha indagato il tema della natura e ha iniziato a intessere una relazione tra il Paricentro e casa Archilei il luogo nel quale si svolgerà questa serata di restituzione. È un appuntamento dedicato all'indagine dell'identità, tema di quest'anno della rassegna impronti femminili e sarà articolato in una serie di momenti diversi che renderanno la serata piacevole, conviviale e anche spettacolare. Concludiamo il percorso delle pari letture iniziato lo scorso febbraio. Quest'anno abbiamo affrontato il tema della natura. Abbiamo affrontato letture di grandi pensatori del Novecento che possono sicuramente stimolarci a sviluppare nuove consapevolezze rispetto al tema della natura e anche all'identità perché per uscire fondamentalmente dall'individualismo che spesso ci frena è approcciarci alla natura in maniera più relazionale, più intima, più introspettiva. Quindi un percorso variegato che sicuramente offre grandissimi stimoli di riflessione per maturare consapevolezze e soprattutto letture propulsive, le abbiamo definite così, che ci invitano a trasformare in comportamenti e azioni pratiche queste consapevolezze. Saremo accompagnati in questo percorso di letture da un'orchestra, l'orchestra Sentieri Musicali che ha scelto, ispirandosi al nostro programma di lettura, dei brani.